Torna l'appuntamento con Mondo Fuzzal, la rassegna del calcio a 5 settimanale con importanti novità e soprattutto la bella notizia della storica promozione della Rapido Latina. Ci vediamo dopo la sigla. Grazie a tutti. 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 È troppo calda. È troppo calda. Non mi rendo conto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Storico, 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 storico!!! Storico! Abbiamo segnato una pattina, storica... della storia dello sport di Latina. Sono contentissimo. Grazie a Gianluca Lassarsa. Vediamo un attimo di andare a raccogliere. Abbiamo vicino a noiluca Giampaolo, arrivato il le tecnico romano. Le promesse sono state mantenute. Avevi detto che avresti portato questa squadra lontano. L'hai portata a condurre una Final 8 è molto, molto importante. Non è arrivato un traguardo importante, ma questo forse è quello più importante in tutta la stagione Sì, è stata mantenuta la promessa dove dici tu, mi fa piacere era difficile mantenerla ma non riesco a parlare, sono felicissimo E' giusto così, Giampaolo andiamo a lasciarti all'esultanza insieme a tutta la squadra Grazie Giampaolo, ci sentiamo Mi fate di fare solo una tetica a mio padre che è lì A mio padre E' un bel saluto, lo salutiamo in tribuna ad accompagnare a te Luca Smaina, un'importante vittoria, quattro gol pesanti in questa trasferta di potenza, quella più importante E veniamo trascinati nell'esultanza, Luca, arriva questo importante gol Questa quaterna, un poker prestigioso, è una vittoria anche una dedica particolare in questa trasferta, in questa sfida Ti vediamo con un momento, ma è giusto? A mia madre, a mia madre che la amo Che c'ha avuto una piccola difficoltà all'inizio dell'anno C'ha avuto una paralisi faciale e grazie a Dio, non so se grazie a Dio o a chi Però oggi sta benissimo e sicuramente sta festeggiando la casa con Con mio padre e mia sorella che è incinta E i miei fratelli A tutti loro, a mio figlio e a mia moglie Grazie Lucas, è giusto la sua commozione Andrea Terenzi, Andrea Terenzi, eccoci qua Un pontino, anche importante per te Ne hai vissute tante, di belle soddisfazioni, belle vittorie Ma quanto è bella questa vittoria? Guarda, io ti dico, è bellissima Ma sicuramente me ne renderò conto tra qualche giorno Quanto sarà ancora più bella di quanto mi credevo Era bello quando abbiamo vinto la B Ma adesso a due, cioè siamo in a uno È una cosa impensabile fino a qualche tempo fa Ringraziamo il Presidente che ci ha dato questa squadra E a tutti i sacrifici che fa, è una cosa fantastica Grazie ad Andrea Terenzi Verso Iuri Bacoli Arriva Iuri C'è questo sorriso, giustamente queste lacrime C'è qualche dedica particolare? Ma sicuramente, sicuramente mi sarebbe piaciuto Che là sopra ci fosse stato anche papà Ma so che dalla sua avrà gioito anche lui E sarà festeggiando sicuramente la scuola anche lui Grazie Iuri Capiamo la sua emozione E noi vi salutiamo Ricordando il risultato finale Dalla palapergola di Potenza Rapido Latina batte Futsal Potenza 9 a 0 E taglia il traguardo promozione Campione del torneo di serie A2 In Latina a Proda Con la sua massima produzione Al campionato di serie A Nel Futsal nazionale Da Daniele Porcelli È tutto Io vi saluto anche Con l'aiuto di David Da Silva Ultima giornata quindi Consegna proprio il passaporto Alla Rapido Latina E la possibilità di approdare Al massimo campionato del Futsal nazionale Quindi la Rapido Latina l'anno prossimo Partirà ai nastri di partenza Proprio nel massimo campionato Gli ultimi risultati della 26esima giornata Hanno visto Fuente Lucera battere a Isernia Per 3 a 2 A Catania vittoria dell'Augusta Per 4 a 3 Nei confronti del Catania A Cireale batte Pasta Pirro Corigliano 7 a 6 A Potenza Rapido Latina Come detto Batte Futsal Potenza 9 a 0 Pareggio tra Salinis Libertas E Ragla 5 a 5 Pareggio anche per 2 a 2 Però tra L'Odissea 2000 E la Roma Torrino Futsal Una classifica Abbiamo detto Ha visto al comando Tagliare il traguardo La Rapido Latina A 62 punti A 58 Una coppia Formata da La Cascina Orte E Pastapiro Corignano Queste due formazioni Giocheranno i playoff Per inseguire Proprio il sogno Continuare A inseguire un sogno E farlo diventare Anche per loro realtà Fuente Lucera 41 punti 38 punti Per Catania A 29 A Cireale Odissea 2000 28 26 punti Per la Isernia 25 Per il Salinis A 23 Roma Torrino Futsal E Libertas E Ragla Augusta 20 Chiude il Pananino Di Cota Con 16 punti Per la Futsal Potenza E dal campionato Di Serie A2 Ci trasferiamo All'unico Campionato Regionale In campo Visto Il turno di sosta Del massimo Campionato Quello di Serie C1 Si è giocato In Serie C2 Il penultimo turno Della stagione Come detto Già deciso Per quanto riguarda In alto Alla classifica Con il minturno Che però Non conosce Ostacoli E continua a vincere E spugna Anche il campo Il campo di apriglia Quello dell'Eagles Per 6 a 3 E si attesta A 68 punti Tutto da decidere In fondo Alla classifica E soprattutto Ancora da decidere Le formazioni Le formazioni che Dovranno giocarsi La permanenza In questo Campionato Anche per la prossima Stagione Saluta Dopo un anno Di apparizione Il campionato Il città di Pontinia Sconfitto In casa Dal Real Castel Fontana Andiamo quindi Con il quadro Completo Dei risultati Città di Minturno Manina Batte CCP 1987 4 a 1 A Ciampino Cisterna Batte Ani 9 Ciampino 4 a 3 Rotonda E sonante Sconfitta Per la Connect Calcio a 5 4 a 0 Nei confronti Dell'atletico Anzio Lavinio In Minturno Esplugna Appunto Aprilia Per 6 a 3 Vittoria Della Vigor Cisterna 1994 Nei confronti Del Pananino Di Cota Per 5 a 3 6 a 0 Il Real Castel Fontana Batte Il città di Pontinia E vince Anche il Terracina Calcio Nei confronti Del Velletri Per 6 a 3 Come detto Appunto Il capitolo Chiuso In alto Alla classifica Già delineate Appunto La griglia Il Minturno 68 punti Già la settimana Scorsa E volato In Serie C1 Mentre per il Real Castel Fontana A 61 punti Anni 9 Ciampino A 54 Giocheranno I playoff Per poter Ancora Sperare Di guadagnare Un posto Nel campionato Di Serie C1 Della prossima Stagione A 46 punti A 46 punti Ligols Aprilia Atletico Anzio Lavinio 34 punti Dopo Troviamo A 33 punti La Connect E il CCP 1987 A partire Da questa posizione Le squadre Dovranno Cercare Di raccogliere Quanti più Possibili Per evitare Quindi di essere Risucchiati Terracina Calcio 32 Cisterna 30 punti Città di Minturno Marina E Belletri A 29 Vigor Cisterna 1994 A 28 Come detto Città di Puntinia A 21 Saluta il campionato E si unisce Alla Pontina Fussal Che ha chiuso Questa stagione A 8 punti La prossima Giornata Ricordando Che proprio Sabato prossimo In concomitanza Della Festività Della Santa Pasqua Il campionato Osserverà Il turno Di riposo Si tornerà In campo Il 26 Di aprile Con incontri Veramente Importanti Da seguire Con molta Attenzione Proprio per quanto Riguarda La parte bassa Della classifica Andiamo a vedere Quanto ci offre Il programma Della 26esima giornata Pontina Fussal Anni nuovi Ciampino CCP 1987 Atletico Anzio Lavigno E da qui Inizieranno I scontri Proprio Veramente Da tenere Con molta Attenzione Con molta Attenzione Perché Le squadre Dovranno Come detto Guadagnare Quanto più possibile Cisterna Contro il città di Minturno Marina Connect Contro il città di Pontina Velletri Eagles Aprilia Real Castelfontana Terracina Calcio Minturno Vigor Cisterna 1994 Ma per quanto Riguarda Tutte le informazioni Le classifiche Vi ricordiamo Anche i nostri Portali Che sono www.mondofussal.net Immagini Risultati E classifiche Commenti Per quanto riguarda Quanto avviene Nel fine settimana E nel corso Delle settimane Anche con L'ausilio Di youtube.com Slash Mondofussal TV Sono i risultati Dell'ultima giornata Che a questo punto Rendono interessante Il campionato Provinciale Quello Dei due raggruppamenti Il girone A E il girone B Dove La lotta Al primo posto Resta ancora Aperta La sconfitta Dello spotting Giovane Risorse In casa Contro Il latina Scalo Cimil E la concomitante Vittoria Del Real Potecora Nell'anticipo Di venerdì Contro il Flora 92 per 5 a 3 Fanno bazzare Di nuovo Al comando La formazione Allenata Da Davide Pacassoni Per un Importante Proprio Corsa Nel primo Al primo posto Perché a questo punto Tutto è rimesso In discussione A tre giornate Dal termine Andiamo con Ordine Iniziamo quindi Con i risultati Maturati Nella ventitresima Giornata Parocchia San Giuseppe Sconfitta in casa Dall'Accademia Sport Per 6 a 4 Torna quindi Alla vittoria Alla formazione Di Domenico Catanzariti Ininterrompendo Il momento Negativo Antonio Palluzzi Batte Atletico Rocca Massima 10 a 8 Real Potecora Si impone Nei confronti Del Flora 92 Per 5 a 3 Dopo che la prima Parazione di gioco Si era chiusa Con il vantaggio Del Flora 92 Sporting Giovani Sorsa Sconfitta in casa Da Latina Scalo Cimile Per 5 a 2 Vince il Real Terracina Con la PR 2000 Per 5 a 2 Real Latina Batte Virtus Latina Scalo 5 a 1 E la United Batte la Virtus Terracina Per 11 a 4 Proprio la United Si è rifatta Sotto Preponentemente E adesso Inensilia Proprio le prime Che sono in alto Alla classifica Proprio una classifica Al comando Il Real Potecora Con 57 punti A una lunghezza Di ritardo Sporting Giovani Risorse 55 punti Per United Aprilia 48 punti Non si spalga Quindi la coppia Formata da Antonio Palluzzi E Real Terracina 46 punti Per l'Accademia Sport A 43 Troviamo Latina Scalo Cimile Molto più in basso L'Atletico Rocca Massima A 36 punti 24 punti Per il Real Latina Piere 2000 Aprilia 21 Flora 92 15 punti Virtus Terracina 14 Parocchia San Giuseppe 9 E chiude Il pananino di coda A un punto La Virtus Latina Scalo Ricordando Anche che Tralasciando La squadra Che vincerà Questo campionato E quindi Guadagnerà Il passaporto Per giocare Il prossimo Campionato Nella serie In serie C2 Le altre squadre A partire dalla seconda Alla nona posizione Disputeranno Ad incrocio Con le formazioni Del Girone B La Coppa Provincia Latina Ma questo Ne parleremo Abbondantemente Nel corso Delle prossime Trasmissioni Subito dopo Proprio La pausa Pasquale E prima Di trasferirci Al raggruppamento B Ricordiamo Il programma Della 24esima Giornata Che proporà Proprio In apertura Venerdì Sera Virtus Latina Scalo Real Potecora Quindi Capolista Contro Il Fanalino Di coda Virtus Latina Scalo Seguirà Il programma Il sabato Successivo Tra Latina Scalo Cimil Antonio Palluzzi Piere 2000 Aprilia Flora 92 Atletico Rocca Massima Parrocchia San Giuseppe Virtus Terracina Real Latina Real Terracina Sporting Giovani Risorse Chiuderà Il programma L'Accademia Contro La United Aprilia Come avete visto E avete ascoltato Quindi Importanti Scontri Da seguire Anche In questo Raggruppamento E quindi La possibilità Per le formazioni Di non Sbagliare Di non Perdere L'appuntamento Per ottenere L'intera Posta In Palio Avevamo Già Parlato La settimana Scorsa Che questo Campionato Era stato Rimesso Tutto In Discussione Con La sconfitta Dell'Orderencio Per mani Dell'Atletico Caeta Atletico Caeta Che continua A vincere Lo ha fatto Nei confronti Dello Sporting Terracina E quindi Aggancia Il primo Posto Proprio Nel virtù Del fatto Che La Vis Fondi Giocando Contro La Virtus Fondi Non ha Prodotto Classifica Vince Anche L'Old Ranch Rimangono Quindi In testa Al Girone Tre Formazioni Ma andiamo Con ordine Ricordando Proprio Tutti I risultati Maturati Nella Ventitresima Giornata Tre giornate Anche Qui Al termine Di questa Stagione Atletico Sperlonga Batte Atletico Marano 9 a 6 A Formia Old Ranch Batte Formia 1905 16 a 5 A Ventotene L'Olympus Sporting Club Espugna Ventotene Per 6 A 1 Vince A tre Mensuali Il Palavagnoli 89 Per 8 A 3 L'Atletico Veida Si impone Sullo Sporting Terracina Per 8 A 1 Posticipata A giovedì Sera Il confronto Che vedrà Di fronte La DLF Formia Calcio E Proprio Old Ranch Atletico Aeta E Vis Fondi A 53 Punti 40 Punti Ancora Per il San Giovanni Spigno Ma questa Formazione Abbiamo detto Giocherà In posticipo Giovedì Sera 38 Punti Per l'Olympus Sporting Club 29 Sporting Terracina In compagnia Dall'Atletico Sperlonga Palavagnoli 89 A 28 Punti 24 Punti Per l'Atletico Maranola Si ferma Il 3 Mensuoli A 22 DLF Formia Calcio 15 9 Punti Per il Formia 1905 E a 3 Punti Troviamo Il Ventotene Alla Ripresa Del Campionato L'Old Ranch Osserverà Il turno Di riposo Perché Affronterà Da calendario La Virtus Fondi Ma Non Produrrà Al Alcuna Classifica Proprio Per la Formazione Allenata Da Ivano Di Chezza Quindi Grande Possibilità Per le Altre Due Formazioni Precisamente L'Atletico Gaeta E la Vis Fondi Perché Dovranno Giocarsi Proprio In importanti Confronti A cominciare Dall'Atletico Gaeta Che Giocherà Il derby Contro L'Atletico Maranola Mentre La Vis Fondi Osserverà Il 3 Mensuoli Le altre Gare In Programma Saranno Palavagnoli 89 Contro Ventotene San Giovanni Spigno Atletico Sperlonga Olympus Sporting Club DLF Formia Calcio E Sporting Teracina Formia Calcio E Torniamo Di nuovo In studio Ma prima Dei saluti Ricordiamo Anche Il nostro Portale E quanto Potete Seguire Con risultati Classifiche Commenti Con l'ausilio Del nostro Sito www.mondofuzzal.net Nonché www.youtube.com Slash Mondofuzzal.tv Dove troverete tutte le notizie che andate cercando proprio e soprattutto sul calcio a 5 puntine Daniele Porcelli vi saluta augurandovi la buona Pasqua anche a nome di tutta la redazione di Mondofuzzal e di SL48 La più cordiale Buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti